Ciao ragazzi, sono la Mauri, oggi vi volevo presentare uno style di Redken Quick Tease 15, è uno spray che dà corpo e volume, fine, piega, quindi adatto a tutti quei tipi di capelli che vogliono volume, corposità, quindi comunque noi facciamo la nostra piega con i nostri prodotti che vogliamo utilizzare, diamo corpo, volume, diamo comunque la piega che vogliamo. Questo prodotto, vaporizzato da una distanza di circa 20 cm, va a mantenere la corposità e il volume che abbiamo ricreato precedentemente con la piega, ha un fissaggio medio, ma nonostante comunque sia un fissaggio medio, quindi una buona tenuta per il nostro capello, fissa in totale leggerezza, quindi laddove ricreiamo volume, questo ce lo va a fissare, quindi ci renderà una capigliatura corposa, soffice, senza pesantire e soprattutto non lascia residui, quindi comunque un colpo di spazio o ci passiamo tra le mani, il cappello tornerà comunque in totale libertà di movimento senza lasciare residui. Quindi ragazzi, buono spray a tutti, grazie mille!